Siamo pronti per il primo intervento, chiamo il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia e politica aziendale presso la scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi. Buongiorno a tutti, grazie. E allora, insomma, prima lo ricordava anche il presidente della piccola industria, quali sono stati i momenti importanti, le rivoluzioni della nostra società partendo dalla prima rivoluzione industriale che hanno segnato sempre dei grandi cambiamenti epocali, non solo industriali ma dal punto di vista sociale, economico e culturale. Quindi prego, grazie a lei. Se vogliamo entrare nella 4.0 bisogna almeno fare quattro passi, ve lo dico subito. Lì seduti non si va da nessuna parte, quindi provate a muovervi perché il futuro dell'innovazione è fatto di quattro cose. Persone? Sicuramente. Gli ultrasettantenni con il 4.0 faranno fatica, ve lo dico subito. Assumete qualche giovane. Io e Alfonso ve li produciamo a migliaia ogni anno. Poi per processi, provvigioni del governo sicuramente e piani. Questo è un po' il tema. Però siccome siamo recanati, vi fatevi citare un grande recanatese. Mirando in terminati spazi, io quando l'ho lessi la prima volta, ero alle medie questa poesia, mi dedo un brivido che non è mai passato, vi devo confessare. Quindi grazie per questo invito, per me è commovente guardare questi colli. E pensare che la poesia in fondo è questo, una grande sfida di sintesi, una grande sfida di passaggio dalla prosa dialettale della fabbrichetta alla grande poesia universale dell'ecosistema digitale. Questo è, signori, 4.0, è il passaggio alla poesia dell'impresa, che sa comunicare al mondo e non si chiude nell'angusto spazio della fabbrichetta di casa. E io dico che con un esempio di questo genere, qui nelle Marche, non potete esimervi dal pensare in logica universale. Dall'avere lo stesso coraggio di chi vi ha onorato in tutto il mondo e di chi oggi ancora illumina le menti dei nostri giovani. E guardate che questo orgoglio dovete sentirvelo, perché se lo sentiamo noi milanesi non penso che possiate esimervi voi. Però attenti che di là di quella siepe, di questa vecchia prospettiva aziendale un po' ristretta, un po' becera, c'è una sfida che è quella di una cittadinanza economica responsabile. Fare 4.0 non è mettere in ordine la propria fabbrica, è un atto di cittadinanza, è una scelta di responsabilità sociale. Vediamo quindi la complessità, ma anche il fascino. Quindi, qui si discute di legge elettorale, io come minimo voglio riformare la Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro robotizzato, anche quello software chiara, perché non è vero che sono solo le macchinine. Il software è il cuore di questa rivoluzione. Non pensate solo all'hardware, per favore. Una repubblica che vogliamo faccia lavorare tutti, tutte le persone, perché è una grande sfida, non di sostituzione degli operai o del lavoro, ma di liberazione di tante menti, di tante energie. Il 4.0 fa lavorare molte più persone, fa lavorare anche le cose, pensate un po'. Fa lavorare tutto e tutti. In questo senso è una sfida istituzionale. Non è soltanto un trucchetto fiscale per risparmiare qualche lira di superammortamento. Spero che vi sia chiaro quindi che siamo qua per fare un ecosistema digitale, non semplicemente per dare una rinfrescatina alle fabbriche. E fare un ecosistema digitale è un modo per le imprese di candidarsi a diventare pilastro istituzionale anche per la pubblica amministrazione, caro sindaco. Perché il 4.0, fatto bene, fa risparmiare un sacco di soldi anche le istituzioni pubbliche, perché le rende sostanzialmente inutili. Non è il senso che voglio licenziare tutti, ma gran parte del lavoro che fanno di passacarte non serve più perché ci scambiamo dati digitali, non pezzi di carta. 4.0 vuol dire effettivamente fare questi quattro passi dopo la rivoluzione industriale, ma non si compra listino, non è una roba scaffale che ordinate via Amazon il 4.0. È una grande sfida culturale e organizzativa ed è una sfida che chiamiamo di servitization, perché deve uscire dalla logica del prodotto, nella quale voi martigiani siete bravissimi, sia chiaro, e deve entrare nella logica del servizio, perché un prodotto 4.0 non si vende mai, lo si affida al cliente dicendo mi raccomando perché rimarremo sempre in contatto, e la cosa che ti ho venduto è dentro il mio perimetro organizzativo perché continuo a parlarmi e io continuo a parlarti. Questo 4.0 è un dialogo incessante e inesausto con tutta la filiera, cliente incluso, per quello che c'è tanto software, per quello che c'è tanta intelligenza, per quello che c'è tanta passione, per quello dobbiamo alzare lo sguardo oltre quella SIEPE. 4.0 vi dicevo sono 4 passi, perché l'imprenditore è il primo chief 4.0 officer, perché deve mischiare il sangue, deve assumere giovani, deve assumere anche i clienti, i clienti nel 4.0 sono i primi collaboratori, devono lavorare anche loro, devono produrre, d'altra parte Facebook e Google ce l'hanno insegnato, siamo noi a lavorare per loro, bene, quella è la filosofia, deve assumere ovviamente anche le banche, sì, perché 4.0 la banca non riceve più il documentino di bilancio una volta all'anno, ma è costantemente in contatto con noi e scambia dati e informazioni, quindi basta lamentarsi che non ci sono i soldi, la verità è che i soldi non arrivano se non abbiamo intenzione di scambiare dati e informazioni in maniera trasparente. Dicevo ma c'è il nero? No, non c'è il nero, c'è soltanto l'impegno alla grande trasparenza, che è una base fondamentale per impostare bene il futuro di una nazione sana. Provvigioni, dicevo non dobbiamo chiedere al governo soltanto sussidio, dobbiamo chiedere gli standard digitali, di scrivere leggi che ci portino a essere cittadini e imprese digitalizzate, i nuovi standard digitali sono la costituzione della nuova repubblica. Poi prospettive, diciamo prima della piccola e media impresa, dei passaggi generazionali, esatto, il 4.0, lo dico a tutti gli imprenditori di prima generazione, è un passaggio di testimoni, è un modo per dire largo ai giovani e non necessariamente ai propri figli, perché non è detto che l'imprenditorialità si trasmetta per caratteristica genetica. E se c'è una cosa chiara sul 4.0 è che vale un principio, vinca il migliore, funziona anche nella Coppa dei Campioni, ve lo dico sinceramente, lo dico da milanista. Primo punto, people, persone, fate vedere un po' di biglietti da visita, c'è qualcuno che si chiama director of... Alfonso, sono biglietti da visita che ho raccolto in California, l'ultima volta che sono stato, si è stato chiuso la stima scuola. Uno si chiama, buongiorno, sono head of digital disruption, ma ti pagano per quello? Capo della disruption digitale. Bene, finché non avete assunto un giovanotto che ha questo incarico, probabilmente voi il 4.0 non lo farete mai, perché è un atto di grande coraggio organizzativo, bisogna prendere gente arrabbiata, affamata, non chiappe di pietra, mi capite? Gente che ha voglia di rimettere in discussione le cose, non è una robina che si fa fare dal ragioniere per l'F24 per risparmiare qualche migliaio di euro di roba fiscale, è un atto di coraggio, è una grande rivoluzione, perché senza cambiare le teste non andiamo a nessuna parte e non necessariamente dovete assumere solo ingegnerini, fighetti del Politecnico, e neanche Bocconiani con la puzza sotto il naso, basta un bravo perito con la testa sulle spalle, i piedi per terra, fame e voglia di studiare, valigetta e correre, valigetta però delega, enfasi e appoggio. Processi e prodotti, dicevo prima della poesia, qui cito Wittgenstein, i confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo, se non spostate quella sette ragazzi, se non spostate il linguaggio del provincialismo, io amo le Marche, ma non amo il vostro provincialismo, le più belle realtà marchigiane sono quelle che hanno abolito i confini, che hanno detto siamo cittadini del mondo di origine marchigiana, orgogliosamente di origine marchigiana, ma cittadini del mondo. Giacomo Leopardi è un grandissimo cittadino del mondo, ce lo invidi a tutto il mondo, perché ha saputo guardare al di là di quella siepe e quel regalo che è nel cuore di tutti gli studenti del mondo, tocca anche a voi, superare i confini del linguaggio, piccolo e bello, a una condizione che sia interoperabile, standardizzato e dialogante col mondo. Allora la dimensione conta meno, perché c'è la parola standardizzata del dialogo e capite che questo ci rende cittadini del mondo, solo se impariamo. Il digitale di questo è la nuova poesia delle macchine, è un linguaggio con cui macchine e persone decidono di parlarsi e capirsi. Così come Leopardi ha standardizzato l'italiano, perché venivamo da mille dialetti, si è in un certo senso insieme a Manzoni fatto strumento, lui della poesia, Manzoni nella prosa, di cui risciacquare i panni nell'arno del linguaggio nazionale, che ha unificato una nazione, che veniva ancora, ed era ancora in un processo di unificazione politica, loro sono stati i primi patrioti, se volete, letterari. Questo è quello che dobbiamo fare, unificare la nazione economica col 4.0. Quindi l'idea del 4.0 è passare dalla vendita alla rendita. Mi spiego, un prodotto 4.0 non si vende, lo dicevo prima, è un patto di collaborazione permanente con la filiera, perché continua a parlare, continua a mandare messaggi, continua a mandare dati, non muore mai, e ce ne occupiamo per l'intero ciclo di vita. Ora, noi non siamo purtroppo messi bene, poi lo dirà meglio il collega Alfonso Fuggetta, ma in Italia siamo avanti in certi settori, automotive, la filiera della meccanica di precisione, alcuni pezzi, diciamo così, della chimica, ma l'industria 4.0, l'Internet of Things è ancora piccola, sta crescendo a doppia cifra, ma non basta per colmare il gap purtroppo. L'Italia purtroppo è qua, qui dentro qui, tra quelli che si chiamano gli hesitators, questa qui è la Germania, tanto per farvi capire. Però il manufacturing sarà impattato pesantemente dall'Internet delle cose e dal 4.0, quindi le prospettive sono estremamente interessanti, io condivido stime nell'ordine di qualche punto di PIL, vedrete nel secondo semestre di quest'anno e l'anno prossimo gli impatti sugli investimenti, che però recupereranno da livelli che sono scesi del 25-28% dopo la crisi. Parliamo di calcio, vero? Io me lo ricordo ancora perché ero bambino, quell'Italia-Germania 4 a 3, ho capito, però adesso Germania-Italia 4 a 0, perché in Germania oltre metà delle imprese, oltre la metà delle 6.000 imprese manifatturiere con più di 100 milioni di fatturato è già 4.0 compliant da anni, noi siamo qua che ci stiamo pensando, facciamo i convegni del 4.0 del 2017, ma io in Germania ho 10 anni fa, lo dico sinceramente, quindi un attimino di ritardo, niente di male, si recupera, però come dire, occhio che non ci sono i tempi supplementari in economia, gli ostacoli, i motivi, ma ce ne sono tanti se volete, primo, questi dati di Desi, siamo praticamente davanti alla Bulgaria come indicatori della digital economy, è chiaro che senza digital economy, cioè senza persone, senza tecnologie, senza processi, cosa facciamo? Il 4.0 de noantri? Facciamo 4 pezzettini di roba col saldatore? No signori, guarda che non ve li danno poi gli per ammortamenti, ve li concedono, poi verificano e scoprono che non era così, non si può scherzare, non è un pezzo di carta certificato, ma sì più o meno, vediamo che si muove da sola, no, non è vecchia automazione industriale, 4.0 ha un impegno strutturale all'interoperabilità e al software, è la cittadinanza dell'ecosistema digitale economico, purtroppo il peggior risultato è proprio sul capitale umano, questa è la linea europea, questi sono i nostri indicatori, tutti sotto il capitale umano necessario, guarda che il problema è che le macchine si comprano, ma le persone no, bisogna formarle, educarle, bisogna portarle a bottega, c'è tempo da farle crescere, non possiamo prendere l'ultimo momento perché abbiamo comprato delle macchine che nel frattempo invecchiano e non servono a niente perché non le abbiamo preso le persone e ricordo che 4.0 per fortuna, per il MISE è anche incentivo a ricerca e sviluppo, è anche incentivo a formazione e non possiamo dimenticarci questa seconda fase, se no mettiamo il carro della tecnologia davanti ai buoi dell'organizzazione, vero Chiara? E non stiamo recuperando, perché i dati desici ci dicono che l'Europa cresce e noi cresciamo un po' ma siamo sempre sotto, non stiamo colmando il gap, perché non è vero che non abbiamo investito, ma prima della crisi abbiamo investito nel capitale sbagliato, se guardate questa l'Italia, sono dati Oxe, abbiamo investito molto più degli altri, ma nella parte hardware meccanica abbiamo comprato tanti capannoni, tante macchine e abbiamo sotto investito nel software, negli intangibles, bravi, complimenti, a fare il grande capannone, orgoglioso, a ingigantire il nostro ombelico siamo capaci, perché quello si vede, tutti contenti, invece il lavoro duro, difficile, più oscuro di fare il software, ah no quello no, quello fa niente, la prossima volta, questi risultati, produttività zero, purtroppo la spesa in ricerca e sviluppo, questa è l'Italia signori, dietro a tutti, la vedete dietro a tutti? Soprattutto per la composizione del capitale intangibile e la nostra workforce, il personale impiegato è quella qua, l'Italia nella parte IT, nella parte ST, cioè nelle competenze che servono, è quella qua, dietro vicino sostanzialmente alla Slovacchia. Quindi le quattro domande che devo farvi sono, primo, smettiamo di parlare di vendita, perché la 4.0 non è solo un cambiamento manifatturiero, è un cambiamento dell'intera catena del valore, il rapporto con i nostri clienti cambia, è un patto di servizio, quindi servitization, non solo vendita, trasformazione di ogni prodotto in un servizio, anche di una doccia, anche di una scarpa signori, scarpa è un dialogo, specialmente con chi ormai ha la cultura della scarpa come moda e non semplicemente come strumento funzionale. I clienti diventano a tutti gli effetti parte del nostro processo di ricerca sviluppo, il nostro modello organizzativo deve cambiare, il nostro modello di business deve cambiare, perché se passiamo dalla vendita alla rendita, dobbiamo passare da un business plan basato sulla somma di transazioni, quanto vendiamo quest'anno, a un business plan basato su contratti di servizi a lungo termine, basati su scambi sistematici di dati digitali, quindi attenti che non è solo una generazione nuova di un po' di information technology, avete digitalizzato l'interno dell'azienda, adesso bisogna estendersi a monte e a valle della catena del valore, questo è 4.0, è guardare fuori, fuori davanti a valle con i distributori e con i clienti e anche a monte, questo è il colle dell'infinito. Guardare a monte e a valle vuol dire che guardare di fianco vuol dire anche pensare che se questa è la impresa, a monte hai il fornitore, a valle hai il distributore e qui hai la banca e il nuovo rapporto fra impresa, la sua filiera e le banche è un rapporto di scambio informativo sistematico, non di bilancio formale mandato a giugno dell'anno prossimo con i dati dell'anno scorso, ma come si fa a pensare di poter finanziare un paese con una modalità così asimmetrica di scambio informativo? Il 4.0 è un impegno permanente alla trasparenza informativa con le proprie parte bancari, che non possono essere lasciati col cerino in mano perché li abbiamo truffati con le nostre informazioni, viceversa, meritano di essere informati perché magari se capiscono bene il nostro business i soldi ce li danno anche volentieri, pensate un po' che roba, sono lì per venderli i soldi, ma chi se li merita e chi li vuole pagare è il giusto, il nuovo patto fra impresa e banca è questo, è un patto di riduzione delle asimmetrie informative basato su scambi 4.0, ne stiamo giusto lavorando su questo progetto con i colleghi del Cefri e chiediamo anche voi di prepararvi perché arriverà l'onda in cui dopo l'industria 4.0 arriva la finanza 4.0, che è un principio che noi chiamiamo principio del CAS, non è una parolaccia chiara, vuol dire capital as a service, il capitale è un po' come il cloud, l'utility, si compra as you go, si compra in base all'andamento dei flussi di domanda del circolante che però non sono richiamati dal preimprenditore con le telefonatine al direttore di banca, ma sono il risultato di un'analisi quantitativa sistematica dei dati aziendali, pensate, dice ma come devo essere trasparente nei confronti della mia banca? Ma pensa un po', e in Germania secondo voi cosa fanno? Sono 20 anni che queste cose sono consolidate, noi siamo ancora lì a tenerci 5 o 6 banchette, mentiamo sistematicamente a tutte e 5 o 6, sperando che così ci diano i soldi, andiamo avanti così che andiamo benissimo, adesso sono arrivando i PIR, arriveranno decine o centinaia di miliardi sulle piccole e medie imprese, prepariamoci, vestiamoci della festa, cravattino giusto, pettinatura, bravo, perché dovremmo essere presentabili a un enorme flusso di capitale che sta lì e sta lì per 5 o 10 anni, ma richiede trasparenza, bilanci certificati, governance trasparente, altro che inciucio padre e figlio con i cugini, le amanti e i compagni del partito, trasparenza e governance, pensa un po', quindi mi raccomando voglio vedervi sorridere perché il valore aggiunto si sposta ai bordi delle labbra, si sposta sull'R&D, in alta, sull'innovazione e si sposta a valle sulla servitization e il data management, in mezzo sulla produzione, sulla logistica, sui processi industriali tradizionali, non è che non c'è più valore, ma si schiaccia il valore, il valore si sposta ai bordi, all'inizio con la ricerca e sviluppo e alla fine con il dialogo con i clienti della servitization, se state in mezzo, mi spiace, non sorriderete, se soltanto se le funzioni di dialogo, quelle dell'R&D a monte con l'università e la ricerca e quelle della servitization a valle, data management con i clienti, se quelle funzioni in azienda crescono, allora cresce anche il vostro sorriso e pensate ai vostri prodotti, non perché siano made in Italy, ma perché siano made to serve, cioè fatti per essere serviti, cioè costantemente assistiti da un processo digitale di scambio, this is Industry 4.0, made to serve, perché dobbiamo passare dal made in Italy al making in Italy, dove making è present continuous, cioè processo sistematico permanente di produzione, non solo dell'oggetto, ma dei dati che lo servono, che lo collocano, che lo manutengono in termini prospettici, lo vedremo tra poco, col tema della manutenzione predittiva, questo è il senso di non mollare mai il confine organizzativo, quindi noi che abbiamo fatto sforzi per isolamento, per tenerci isolati, no signori, il futuro si chiama ibridazione, integrazione, tra domande e offerta, fra analogico e digitale, fra umano e robotico, quindi il lavoro di un imprenditore è questo, è il lavoro di un convertitore analogico e digitale, ogni segnale analogico, ogni curva deve diventare un segnale discreto manipolabile dalle macchine, perché almeno il dialogo non soltanto è fra gli esseri umani, ma fra persone e macchine, che imparano, come sapete, col machine learning, che diventano sempre più intelligenti, perché hanno le nostre regole, imparano le nostre regole, quindi il vero problema è capire che il capitalismo sta cambiando, è data is the new money, i dati sono la vera moneta del futuro, se guardate la capitalizzazione delle più grandi imprese mondiali, non è vero che hanno capannoni o capitale fisso, Facebook, Google, Yahoo, Amazon, hanno capitale intangibile, il futuro è dell'intangibile, valgono molto più i dati delle vostre pietre, valgono molto più i dati, i dati intelligentemente utilizzati, i dati in mano a persone capaci di farli trasformare in capitale, data is the new money, oggi non accettate più pagamenti in Euro, non è stesso che torniamo alla Lira, ma va là, c'è solo uno in felpa con un po' particolare, particolarmente bizzarro che propone di tornare alla Lira, voi non accettate Euro, nel senso di non dovete accettare solo Euro, oggi bisogna essere pagati in Euro e in dati, vanno bene anche i dollari, ma non bastano più le monete formali, bisogna chiedere il pagamento in dati, se il vostro cliente non accetta di pagarvi in dati e viceversa non accettate voi di pagare i vostri fornitori in dati, non avete capito la logica 4.0, che deve costruire uno scambio digitale di dati come complemento finanziario e ingegneristico, lo scambio monetario, e questo se volete raggiornamento della teoria, Robert Coase vinse il premio Nobel per un paper del 32 che si chiamava perché le imprese esistono, una bella domanda, le imprese non esistono da sempre, esistono da un centinaio di anni, 100-150 anni, sono relativamente giovani, lui diceva esistono per una semplice ragione, perché sono l'equilibrio tra costi organizzativi che crescono con la dimensione dell'impresa e costi di transazione che invece scendono, tant'è vero che noi abbiamo un equilibrio organizzativo molto piccolo perché le nostre imprese sono molto piccole, ma con gli ecosistemi digitali e l'industria 4.0 la curva dei costi organizzativi è una parabola che si di nuovo intreccia con la curva dei costi di transazione, molto più avanti, non più in un punto di equilibrio che è l'impresa singola, ma in un punto di equilibrio collettivo che si chiama ecosistema digitale, lì la dimensione non conta perché ci parliamo con tutti, siamo parte non di una rete formale fatta dal tuo taio, ma di una rete sostanziale fatta di scambi digitali, quindi cari imprenditori non mi basta l'hardware, non mi basta il software, il vostro mestiere è l'orgware, cioè imprenditori di esseri umani, l'hardware si compra e raccoglie gli atomi, il software si compra o si sviluppa e raccoglie i dati, molto importante, voi raccogliete anime, voi raccogliete entusiasmi, voi raccogliete passioni, progetti per il futuro, quando parlo 4.0 parlo a delle persone per delle persone e questo è il mestiere degli imprenditori, contagiare con una passione, non comprare dei pezzi di ferro, orgware, questo è il mestiere dell'imprenditore, se volete un consiglio per risparmiare qualche soldino licenziate tutti i manager, non ho capito francamente a cosa servono, io capisco gli imprenditori, la leadership, l'innovazione, capisco chi sta sul pezzo col cliente a fare il lavoro, l'execution come diciamo noi, ma in mezzo i passacarte, i burocrati, i quacquaraquà, i mezzuomini, che ci frega, che ci servono, via via via, a casa o a lavorare, il 4.0 è una grande polarizzazione dei modelli organizzativi, o guidi o stai sul pezzo, a fare il passacarte e il controllore non servi, basta un software agent progettato bene, la governance si fa con questo, guardate che in mezzo nelle organizzazioni non c'è spazio, squadra corta e tutti a correre, anche perché sostituzione robotica è dietro l'angolo, ormai si va verso le smart machine, il concetto non è rubano il lavoro, no, ci costringono a cambiarlo e a lavorare tutti, ditelo ai sindacati, non è vero che la tecnologia ruba al lavoro, lo cambia profondamente e anzi abbassa le barriere a partecipare tutti, perché tutti possono dare una mano, ripeto, anche i clienti lavorano con il 4.0, guardate che la robotic substitution non riguarda solo le fabbriche, ma riguarda anche i white collars, anzi soprattutto i white collars, soprattutto gli aspetti amministrativi, burocratici, funzionali, sono quelli che verranno sostituiti, quindi citato un grande poeta dell'Ottocento, fatemi citare un grande poeta del Novecento, Francesco De Gregori, che scriveva nel suo bel generale queste cinque lacrime sulla mia pelle, si riferiva alle famose cinque stelle, che non è un movimento politico nella mia dizione, bensì che cosa? Il senso di un treno mezzo vuoto e mezzo pieno, il senso di un ecosistema che ci deve informare se i treni viaggiano, se il taxi funziona, se l'ufficio è aperto, se Uber è stato ammesso o meno, l'ecosistema ma signori è un grande metodo di dialogo, i modelli ecosistema sono modelli di partecipazione distribuita, sono modelli democratici, inclusivi e il 4.0 è un modo per arrivarci in maniera deliberata, è certo una democrazia economica dal basso, ma non fatta con i click, fatta di responsabilità, di consapevolezza, fatta di tantissimo studio, non di ignoranza celebrata, studio, 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 studio matto e disperatissimo, direbbe Alfieri. E quindi progettare il 4.0, progettare un ecosistema digitale nelle marche, che è quello che io e Alfonso vi stiamo chiedendo signori, perché questa regione se lo merita un bel ecosistema fatto bene, noi in Lombardia ce l'abbiamo, ci stiamo lavorando, la regione ci ha creduto, ci hanno creduto i sindaci e hanno addirittura imposto che per ogni bando pubblico chiunque voglia ricevere un centesimo di soldi pubblici deve impegnarsi a esibire i propri dati, deve impegnarsi a trasparenza, a open data, altrimenti nisba neanche un centesimo, a me sembra una bella roba, vuoi i soldi pubblici? Caccia i dati, ve l'ho detto prima, solo di euro, non andiamo lontano, servono euro e dati, vuoi l'euro? Dammi il dato, vuoi vedere il denaro? Fammi vedere il dato del cammello, altrimenti non te li do, io non voglio più soldi della pubblica amministrazione, voglio più legge, voglio più regola, questo è il senso e non è l'idea, adesso ci mettiamo qua, facciamo un grande piano industriale per macerata e recanati o per le marche, no, non è una cupola di Brunelleschi, è un grande mercato, un succo, un posto dove ci incrociamo, però le regole rispettiamo, però tu non rubi e se compri paghi, paghi coi dati, questo è il senso, e costruiamo la stele di Rosetta per parlare anche con dialetti diversi, questo è il senso del software interoperabile, del dato interoperabile, cross language relevance, non importa che tutti parliamo esattamente la stessa lingua, non è necessario, ma l'importante è che tutti sappiamo scambiarci le informazioni rilevanti, l'importante è che esista una stele di Rosetta e noi siamo qui per questo, Alfonso, siamo lì per scrivere quelle regole di interoperabilità, per aiutarvi a quello, noi incidiamo sulla pietra le regole e chiediamo alla politica di farle rispettare, poi buon lavoro, siete voi i poeti dell'economia, siete voi i compositori di quei progetti, però mi raccomando scrivete con una sintassi che possa essere compresa, altrimenti nessuno vi capirà, i poeti non ascoltati non diventeranno mai campioni per i giovani, quindi grandi poeti contemporanei, i Beatles, devo finire, mi raccomando, smetto, sì, perfetto, all you need is law, in inglese vuol dire tutto quello che ti serve, è la legge, un po' d'amore sì per carità, ma la legge perché io non chiedo soldi, ripeto, chiedo regole, lo chiedo alle istituzioni pubbliche, lo chiedo ovviamente agli enti di ricerca come noi, noi siamo qua pronti e guardate che non servono soldi dello Stato, tant'è vero che il concetto di calenda è i soldi metteteceli voi, io al massimo evito di chiedervene di più, ecco, questo bene, ma metteteci voi i soldi, io ci metto le regole, regole ferre, chiare, niente inciuci, niente brigamenti, regole ferre e questo è quello che ci serve, quindi ope legis sine pecunia, occhio che sono anche il latino, è il sindaco, cioè mi basta la forza della legge, non voglio i soldi dello Stato che finiscono sempre per essere inefficienti, affidati agli amici, lenti, arrivano tardi, i soldi ce li mettiamo noi, nessun problema, ce li mettiamo noi in presa, ma noi non possiamo metterci le leggi signori, le leggi sono un monopolio delle istituzioni, bene, che ci mettano quello che sanno fare, chiare, poche, leggibili ed efficaci e vedrete che, come dire, faremo benissimo, però questa divisione del lavoro invece no, lo Stato vuole ficcare il naso, decidere lui, fare la politica economica, ma che roba, fate istituzione, che è tantissimo, anzitutto, noi facciamo impresa, pensa un po', che bella divisione del compito, quindi digital by default, occhio, bastone, carota, la carota delle regole e delle leggi, il bastone è che la fiscalità la voglio applicata a chi le regole non le rispetta, esattamente, come facciamo con l'inquinamento? Inquini, paghi, non fai la raccolta differenziata, paghi, bene, perfetto, non sei digitale, paghi, perché sta inquinando il mondo con disordine organizzativo, bisogna quindi cambiare il prezzo fiscale, caro sindaco, se le imprese non si adeguano al digitale, aumentagli le tasse, se invece le imprese si adeguano al digitale, diminuiscilhele, certo, questa forbice va aperta, perché solo così l'imprenditore capisce, con le buone dei progetti e con le cattive della fiscalità, datemi una leva fiscale e vi solleverò l'economia, questo è il senso, chi non usa gli ecosistemi digitali avvelena tutti noi, è un inquinatore organizzativo, fa casino, costringe tutti ad andare piano, costringe tutti alla carta, costringe tutti al dialetto, mentre la battaglia 4.0 è una battaglia di sostenibilità, non solo ecologica, ma economica e industriale, tecnologica, quindi il CO2 organizzativo non lo vogliamo emettere e il 4.0 è un impegno a non emettere CO2 organizzativo, è un impegno ad avere tecnologie rinnovabili dello scambio informativo, basta casini analogici cartacei, questo è il senso, quindi chi si ostina a usare l'analogico a non condividere i propri dati, paghi il proprio opportunismo, inaccettabile, è un pessimo cittadino, un cittadino produce esternalità positive, pulisce davanti a casa, non inquina, utilizza tecnologie rinnovabili, abbiamo capito tutti, abbiamo capito la lezione dell'ecologia, bene, identico il principio, si chiama tassa piguviana, si applica all'economia, che accetta cittadinanza oggi, accetta di scambiare e pretende di ricevere dati, quindi chiudo, basta parlare di digital divide, parliamo di digital unite, questo è il 4.0, una grande costituzione dell'economia scritta da noi e adottata volontariamente da tutti, altro che Matteo Renzi e referendum, la rivoluzione istituzionale la facciamo qua dal basso, adottando da cittadini liberi le nuove regole, a Philadelphia scrissero we the people of United States, scriviamo anche noi, anche in marchigiano, noi virgola, la gente, gli imprenditori e le imprese delle marche dell'Italia e dell'Europa, ci impegniamo a fare questo, quindi occhio che non sapremo né il giorno né l'ora come la parabola del Vangelo, lo sposo è uscito, non so se a comprare le sigarette, non sappiamo quando torna lo sposo della tecnologia, ora non si dice che dovete fare le vergini che dormono, che vegliano di notte, ma mi raccomando non addormentatevi, perché non sapete quando questa cosa poi scoppia in mano e chiudo con l'ultima, questo invece è San Matteo di Michelangelo ed è una statua incompleta alla galleria dell'Accademia, sapete dove c'è il David, quella bellissima statua, chiara quella lì è finta, non guardate, queste sono che vengono le idee strane che i maschi italiani sono come il David, non è vero, chiara, è una roba tipo la demo di Microsoft, capisci? Una roba così, la sasta, sulla destra c'è questa qui che invece non è finita, è molto più bella perché è il senso di Michelangelo che diceva la scultura come l'innovazione è un'arte per via di levare, lui quando comprava un blocco di marmo dentro ci vedeva il personaggio che voleva uscire e usava la scultura per liberarlo, questo è il senso del 4.0, voi dovete vedere nei vincoli, nella burocrazia, nelle aziende che non vogliono cambiare, quel blocco di marmo e dentro ci dovete leggere l'energia di qualcosa che vuole uscire, questo è il senso di fare innovazione, quindi non è solo tecnica o intelligenza artificiale, è passione naturale e quindi bisogna avere l'intuizione di vedere dentro a quel blocco di marmo qualcuno che vuole uscire, che ha una storia da raccontare, guardate che straordinaria meraviglia che ci regala Michelangelo, uno con un libro in mano che vuole raccontare una novella al mondo, quello è l'energia nei nostri giovani, è la passione dei nostri figli, certo bisogna avere il coraggio di prendere questo blocco di marmo signori e se necessario riempirlo di martellate, va bene? Buona giornata e grazie.